In un mondo nel quale il fenomeno delle migrazioni forzate è oggi drammaticamente aumentato fino a toccare i 60 milioni di rifugiati, la cifra più alta dalla seconda guerra mondiale, continuate la vostra missione di accompagnare, servire e difendere i diritti dei profughi. Lo ha chiesto Papa Francesco ai rappresentati del Jesuit Refugee Service ricevuti nel 35esimo anniversario della fondazione voluta da Padre Pedro Arrupe, allora superiore generale della Compagnia di Gesù. Il Pontefice ha ricordato che il Jesuit Refugee Service offre speranze e futuro ai rifugiati grazie soprattutto al servizio dell'educazione che riveste speciale importanza. Offrire educazione è molto più che dispensare nozioni, è un intervento che offre ai rifugiati qualcosa per cui andare oltre la sopravvivenza, mantenere viva la speranza, credere nel futuro e fare dei progetti. Dare ai bambini un banco di scuola è il regalo più bello che possiate fare. Tutti i programmi del servizio dei Gesuiti per i rifugiati, ha concluso Papa Francesco, hanno lo scopo di aiutare i rifugiati a crescere nella fiducia in se stessi, a realizzare il massimo del potenziale insito in loro e a metterli in grado di difendere i propri diritti come singoli e come comunità ed ha lodato il progetto previsto per il Giubileo del Misericordia e di aiutare altri 100.000 giovani rifugiati ad andare a scuola.